Alfonso Di Sabatino Martina, vice sindaco di Teramo, tra le iniziative portate avanti dall'assessorato c'è quella dei passi carrabili, quali sono le novità che riguardano appunto i passi carrabili? Guardi, sui passi carrabili siamo a buon punto, stiamo terminando la fase ricognitiva che è una fase dell'esistente, abbiamo fatto 3.125 accertamenti di nuovi passi carrabili oltre al controllo di quelli che erano già in qualche modo autorizzati o regolamentati, che erano 880, ci sono 425 domande di nuovi passi carrabili già regolarizzati e quindi contiamo di terminare questa operazione con un'operazione massiva e anche complessa che è con necessità del sopralluogo da parte dei vigi e degli incaricati comunali entro la fine del mese di ottobre. All'esito di questa ricognizione serenamente andremo a verificare quali sono le modalità le tipologie di passi carrabili esistenti e prevedremo una serie anche di rettifiche, di detrazioni e di esenzioni per i fondi arricoli, che è un po' quello che già è emerso nell'intendimento anche dell'Aggiunta, condividiamo tutto a dispetto di quello che poi si vuole far credere abbiamo una grande armonia e su questa continueremo a lavorare perché poi la lotta all'evasione non è un risultato del mio assessorato, è un risultato dell'intera Aggiunta che su questo punto è assolutamente coesa e intende continuare in questa che è una delle battaglie rispetto a quella che purtroppo è un fenomeno, una piega sociale sulla quale tutti dobbiamo essere in prima linea maggioranza e auspico anche opposizione, che insomma è sin troppo facile a volte come dire, cavalcare le tigri della tassazione, dell'eccesso di tassazione, questo è un problema sociale e sull'evasione io vorrei dire anche questo, che insomma stiamo studiando adesso delle nuove forme il 15 come voi sapete si riunirà, si insedierà per la prima volta alla presenza del sindaco e mia il consiglio tributario che è composto da persone di assoluta valenza e qualità e con questo consiglio tributario che peraltro siamo stati, insomma ogni tanto diamoci dei meriti perché altrimenti ci diciamo solo quello che non va, il mio assessorato è particolarmente tecnico e quindi a volte anche, come dire, poco appetibile per certi versi dall'informazione ma è importante che si sappia che siamo stati oggi, proprio oggi citati sulla pagina 3 del Sole 24 Ore come uno dei primi comuni capoluoghi che hanno creduto nel consiglio tributario che l'hanno istituito, che l'hanno riempito di contenuti e che, credo sia un maggior vantaggio non hanno attribuito alcun compenso ai partecipanti del consiglio che lo fanno con grande spirito di direzione e con grande senso di appartenenza Novità in arrivo anche per il settore pubblicità e pubblica affissioni? Assolutamente sì, è un altro elemento sul quale stiamo lavorando da tempo era una delle situazioni un po' più complesse, se vogliamo, una situazione anche di Limbo nella quale da tempo il Comune versava perché c'è un abusivismo fastidioso in città per quanto riguarda le affissioni perché anche contiamo di restituire grande decoro a questa città che lo merita nella gara che stiamo per licenziare, almeno nel settore appalti pubblici e contratti sta preparando la gara europea sulla quale noi contiamo che possa dare un segno di svolta rispetto a quello che è l'esistente e riteniamo che con questa gara si possano perseguire un duplice obiettivo che il primo è di decoro urbanistico perché chi vince la gara avrà l'onere di ripristinare le planche di evitare le affissioni a muro che ancora purtroppo sul territorio si svolgono e di fare una lotta a streno all'abosivismo con il quale non vogliamo più confrontarci e il secondo obiettivo che non è trascurabile perché poi il mio di Castello si occupa anche di quello che è l'aspetto economico di ottenere un maggiore introito contiamo di passare dagli attuali 600 mila euro che introitiamo sulle pubbliche affissioni e sull'IPC al un milione di euro questo chiaramente nell'arco di un regime temporale possa essere di 4-5 anni quindi insomma chi verrà a gestire auspichiamo che possa essere una società chiaramente con la quale intavoleremo un rapporto di reciproca collaborazione chi verrà a gestire, chi si aggiudicherà la gara lo farà chiaramente con questo duplice obiettivo quindi di creare un servizio efficiente, efficace ed economico